Temo che sia trascorso un anno inutilmente. Noi ci trovevamo lo scorso anno ad affrontare le stesse problematiche. Alla vigilia dell'apertura di un anno scolastico avevamo il problema del distanziamento sui mezzi pubblici, del dover diversificare l'orario d'ingresso nelle scuole. E al momento noi riscontriamo lo stesso identico problema. Purtroppo c'è stata intanto una mancanza di programmazione, c'è stata una mancanza di utilizzo delle risorse. Io voglio ricordare un dato molto importante. I governi che si sono succeduti durante la fase pandemica hanno stanziato oltre un miliardo di euro per garantire i servizi aggiuntivi. Ebbene, rispetto a questa imponente cifra, le regioni hanno utilizzato appena il 20% di queste risorse. Quindi adesso, ovviamente, alla vigilia dell'apertura della scuola, anche potendo garantire l'80% di riempimento dei pullman, è chiaro che se non si interviene ancora oggi, aumentando i servizi e diversificando l'orario d'ingresso delle scuole, noi ci ritroveremo ad avere gli stessi problemi che abbiamo avuto lo scorso anno. Ci sarà un confronto a breve tra le parti interessate. A Pescara già c'è stato comunque un primo confronto organizzato dalla Prefettura? Guardi, a livello nazionale c'è sicuramente un confronto, ieri c'è stato un confronto tra il ministro Giovannini, il ministro Gelmini e i presidenti delle regioni. E' atteso un nuovo vertice all'inizio di settembre. A livello locale questo confronto purtroppo non c'è, o quantomeno non è omogeneo, ad esempio a livello regionale. Sappiamo che c'è stato un interessante confronto, anche lo scorso anno, devo dire, con la Prefettura di Pescara e che ha visto il coinvolgimento delle imprese di trasporto e ovviamente degli istituti scolastici ma anche delle parti sociali. Però questo confronto purtroppo è venuto meno nelle altre province. E credo che sia un fatto grave perché dover parlare, diciamo, di garanzia, di dover rispettare quelle che sono le norme Covid, senza coinvolgere gli attori principali che poi sono il personale che sta a bordo dei mezzi di trasporto e che devono vigilare non soltanto sul Green Pass, come ad esempio per i servizi a lunga percorrenza, ma anche per il corretto utilizzo della mascherina e anche per il distanziamento di un metro. Grazie a tutti.